ma io dico ma io dico ma qua sbaglio ci sono quelli dell'anonima straccioni sembra un po' il babbo natale ecco sta bustina ragazzi io l'ho già promesso l'altra volta io parlo 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 parole 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 che non servono a nulla vi ho già detto l'ultima volta che le poesiole comunque sia vanno lette invece sono trovate molte per terra, prese da chissà chi, che a casa non aveva la carta igienica che costa veramente tanto. Allora cosa ho fatto adesso? Abbiamo predisposto queste poesiole con le monetine da un centesimo, da due centesimi, da cinque centesimi e non di più come detto l'ultima volta perché siamo straccioni e non possiamo permettercelo, però adesso ve le tirerò e vedremo se qualcuno le raccoglierà per leggerle magari prima di addormentarsi a casuccia, facciamo sta cosa, però prima c'è l'anonima straccioni, l'ultima volta che c'era questo qualcosa, cos'è, cos'è, cos'è sto suono molesto, cosa è? Che roba è quella roba lì? Ah beh, pensate che storie, ragazzi, ragazzi c'è l'anonima straccioni, abbiamo portato un nuovo elemento perché non nuovo, c'è sempre stato però va sempre in Himalaya, ragazzi non devi fischiare nulla lì, va sempre in Himalaya, va sempre, e questo qua si chiama Edoardo Ballanti, lo conoscevo, sì, sì, coltivava patate, capite, nel Laos, dopo ho tornato giù e ha detto vabbè me lo faccio da solo il digeridù, che cavolo è sto digeridù? Lo scavano le termiti in Australia, lui è andato a Roncitelli, un paesino vicino Senigaglia, se le faccio da solo, come funziona sta roba qui? Anonima! Si, si, ci siamo conosciuti così, cosa fai, cosa non fai? Alla fine l'ho preso, Alessandro Tricarico al beatbox, non è uno che suona la batteria ma la fa con la voce, la fa con la voce, adesso basta ragazzi, adesso basta, perché bisogna parlare di scuola, la scuola, mi ricordo che quando arrivavo a scuola c'erano sempre le stesse identiche frasi, come va suo figlio? E come va? E come va? È disattento, arriva tardi ogni giorno, è sempre in bagno, disturbo, disturbo, legge altro, e poi la solita frase, sempre quella, potrebbe fare di più Professori ragazzi Dedicato a tutti i miei professori, anche a quelli vostri, perché sai quando li incontri per la strada è difficile parlare di scuola, ti incontro per la strada e mi sembri non so, qualcuno con due braccia, test e piedi però, la bocca è molto strana, mi ci soffermo ma vorrei tu fossi un figlio dall'epoca del muto Invece parole, 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 parli mentre sto pensando, parla, 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 quanto bello so il silenzio, parla, 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 anche quando mi stai interrogando, parla, 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 parla primoje è inutile che di ci cosa fai, cosa non fai mi sto a sentire solo perché ho deciso che poi mi sarei concubri, accanto dici le cose che vuoi, le cose che vuoi ma quando sono noi non sai almeno come ficciamo Stefano quello strano bravo non sono applicarmi devo Come va? Bisogna andare a tardi ogni giorno E' sempre meglio che disturbo legge altro Che potrebbe fare di più Mugabì, mugabì E' inutile che parli tanto Mugabì, mugabì no Mugabì, è inutile che ascolti tanto Mugabì, è inutile che dici che sei il Dere Mugabì E' inutile che dici che sei il Dere Mugabì E' inutile che dici che sei il Dere Mugabì E' inutile che dici pro Mugabì no E' inutile che dici E' inutile che sei il Dere Mugabì Note sul registro di classe, ma quale? Non andavo bene, elementare Alle meri sembravo già qualcuno dei superiori Che aveva fatto l'università male Dicevano cano, ripeta Montale, 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 montale Montale, 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 mont È morto straccione, cercando di rimanere, di rimanere anonimo! Poveri straccioni, perdonateli! Professori, ma dove siete? Ma dove siete? Robi! Visto che ci sei, manda pure un appello da Gelbini, guarda, quindi... Ministro, dove sei? Dove sei, ministro? Alziamo il tiro! Ministro, dove sei? Cosa fai? Eh, ministro, dove sei? Non lo so, in tasca non c'è, certo! Dunque, grazie, ragazzi! Anonima Straccioni! Una band show! Una band show! Anonima Straccioni! Da Serigallia!